Cambierà l'allestimento sicuramente, ma sempre bello, sempre la festa di San Donato, una delle migliori in provincia di Lecce. La festa sarà ancora più bella nella nostra comunità. Rassicura tutti il sindaco di San Donato, Ezio Conte. Per il 6 agosto, giorno in cui inizieranno i festeggiamenti in onore del santo patrono del piccolo comune Salentino, le luminarie saranno state tutte riposizionate, dopo essere state abbattute dall'improvvisa ondata di maltempo di ieri pomeriggio, con raffiche di vento e pioggia, causare danni anche a negozi e alle auto in sosta. I lavori di montaggio di pali e rosoni nella centrale Piazza Garibaldi sono iniziati subito da parte della ditta incaricata dell'allestimento e dei componenti del comitato festa patronale. L'importante è che non ci siano stati danni per le persone, ecco questa è la prima cosa. Poi la festa ci sarà e ripeto sarà ancora più bella. Luminarie realizzate a Terlizzi che adorneranno il centro di San Donato per tutto il mese di agosto, giacché, come da tradizione, la festa si snoderà in due tranche, il 6 e 7 agosto, dato ufficiale in calendario, e il 14 e 28 per celebrare due miracoli attribuiti a San Donato proprio in quei giorni. Sì, il 7 e poi ve lo faccio.